Tre aree espositive dedicate all'efficienza energetica, al riciclo e alla mobilità sostenibile. Dal 9 all'11 aprile torna alla mostra d'oltremare di Napoli EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo. Un appuntamento ormai rinunciabile per le aziende del settore, che presenteranno in fiera le ultime novità sul risparmio energetico e il rispetto ambientale. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, è organizzata da ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, in collaborazione con il Comune. È una straordinaria occasione per gli operatori della Green Economy. Parliamo di Green Economy, declinata in termini di energia, mobilità sostenibile e ambiente per tutto ciò che riguarda la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti considerati risorsa. È un'occasione importante di incontro con più di 200 tra imprese, associazioni, ordini e istituzioni. È un'occasione anche di incontri B2B bilaterali per scambi commerciali. Nei 10.000 metri quadri espositivi del quartiere fieristico di Fuorigrotta si terranno 40 convegni, incontri e dibattiti sulle tematiche della Green Innovation. Diamo un segnale importante all'Italia, ai pesi del Mediterraneo, candidati alla nostra città come luogo di incontro e piattaforma su cui anche sviluppare quelle che sono le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea sul tema dell'innovazione e della sostenibilità ambientale. Questi sono settori strategici sui quali si può costruire un modello economico, un modello di sviluppo che rispetti l'ambiente ma crea anche occasioni di buon lavoro nella nostra città e in tutti i paesi del Mediterraneo. Sarà presente inoltre un'area dedicata alle smart city per contribuire allo sviluppo di città intelligenti attraverso la condivisione di esperienze territoriali d'avanguardia. È previsto anche quest'anno il Salone della responsabilità sociale condivisa. Invito tutti gli interessati che siano tecnici, installatori, ingegneri, architetti, imprese a venire a partecipare a questa tre giorni dal 9 all'11 aprile.